Ciao amore! Buongiorno! Ciao! Sei contenta che si parte? Manessina, dobbiamo andare! Ehi, dai amore su, ti porto i vestiti! Dobbiamo andare amore, ok? Porti i vestiti amore! Sei emozionata amore? Eh? Cos'è quella faccia? Sei felice? Amore! Adesso andiamo a vedere se anche Manessina è pronta! Forse ci fa impazzire anche stamattina! Anche papà! Una volta io e Manessina andavamo in un porto e giocavamo! Eh sì eh! Adesso giocate anche oggi se volete, ok? Andiamo a verificare che ci sono i cellulari anche! Ah ma gli zainetti sono già stati ritirati, è vero? Sono già in macchina! Siete sicuri? Sì! Vabbè! L'ho ricordo perché ieri quando l'ho messo era accente perché nel caricaggio guarda! Ma l'hai spento? Sì, l'ho spento! Ah ok! Bravissimo amore mio! Siete pronti? Va nei freddo? Vuoi entrare? Papà si sta facendo desiderare stamattina! Sì amore, sono chiuse! E siamo partite! La 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 la! Anastasia! Super felice! Anastasia! Anastasia! Hai proprio ragione, dopo nove mesi di scuola ci vuole un po' di relax, vero? Vuoi freddo amore mio? Ti deve ancora, si deve ancora riattivare il sangue a questa piccola principessa bella addormentata! Ebbè, state dormendo? Siamo sulla navetta che ci sta portando in Malpersa, in aeroporto! Eh? Mancano pochissimi minuti! Siamo in aeroporto! E abbiamo già fatto tutto, anche il check-in, l'imbarchi, tutto! Dobbiamo andare a fare colazione e poi aspettiamo due ore! Compri i trucchi! Eh? No, non ti compro i trucchi! Ani andiamo, dai! Quello è un cavatapi per aprire le bottiglie, carinissimo! Buona colazione! Cosa prendete? Cioccolata calda? Famo io e nemmeno io! Famo e nemmeno io! Cosa, cosa? Stiamo cercando un libro da leggere! C'è scritto William! Ma dai, come papà! C'è un po' se non c'è che si chiamano inglesi! Beh, ma guarda, il nome William è molto comune! Sia nei film che nei film! Ma in inglese! Ah, in inglese! Bene, leggi l'inglese, amore! Perché? Allora, cosa stai cercando? Cosa vorresti trovare? Cosa ti piacerebbe trovare? Io lo so! Non so, una che vive in casa nostra da qualche settimana, spudoratamente, senza pagare nulla! Chi? Roby! Ah, ecco! Come dove sono i libri? Hai le allucinazioni, Vanessa! Ogni giorno? Adesso, da quando è a casa da scuola, tutto il giorno! Io ho tre figlie, Vanessa, Anastasia e Roby! In casa, che parlano! Daniel è il più silenzioso, però! Che bello, Diabolik! Premi, Diabolik! Topolino, mamma mia! La Pimpa! Wow! Ah, perché non prendiamo un cruciverba per bambini, così lo facciamo sull'aereo, insieme? Ma tu non sei insieme! Ma io sono vicino a voi, ragazze! Non sono insieme a voi! Ma questa è 5 euro e basta! È meglio! Però questo è per adulti, amore! Credo! Perché c'è una crema? È un gel per le mani! Per i bambini? Io direi di comprare un... E per bambini? Sì, sì! Potrebbe essere! Hai scelto? Io sono guardate! Ma strano! Una Barbie! Ma come mai? Non ti piacciono? Sono guardate! È bellissima! È bellissima! Volevi vedere magari un altro... Ecco! Perché te? Ma sì, passiamo il tempo, dai! Allora... Tu hai preso... No, 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 no! C'è questa... Sì! Col vestitino azzurro... Questa qua, guarda che vanno! Questa con la magliettina come la mia! Ma questa è, è molto invernale! Ok! No, io questa! Quella col cuore? Sì! Ecco! Sennò ci costa pochi al covid! Ah, non ci costa pochi al covid! No! Questa? Con i pantaloni! Non ha il covid! Sì! Si protegge! No, è la gemella! Dai, dammi questa! Sì, anche questa! Posso vederla? A posto! No, dai! Questa è più bella! Dai, con i glitter in testa! Su, adesso non esageriamo! I glitter nel cuore! Andiamo? Non è quella di prima! Vabbè! È quella di prima ma cambia la maglietta e il pantalone! È un po' lì! Chissà se è il nostro! Mi viene un sole in faccia! Eh? Mi arriva un sole in faccia! Ma quale sole, amore? Ci sono le nuvole? La luce? Sì! Ani! Ani! Era pieno, non c'era posto! Eh? Aspettiamo che apre! Così saliamo, va bene? Bimbe! Ci stiamo per imbarcare! Guardate il nostro aereo! Emozionate? Speriamo ragazze che... Allora, vi dico una cosa, bimbe! Se durante il volo ci dovesse essere un temporale, potrebbero esserci degli sbalzi un po', dei vuoti nell'aereo! Non vi preoccupate, state serene, ok? Sì! E poi te lo spiego! Dai! Ciao ciao! Bimbe! Siamo seduti sull'aereo! Siete pronte? Eh? Molete la Cicca! Eh, l'ho lasciata su! No, dai, lascia stare! Buon viaggio! Buongiorno dalla casina! Cos'ha Vanessa? Ani! Che cosa è? Anè? Hai sonno? Che papà? Ok! Anni, dormono tutti! Ancora dobbiamo partire, stanno già dormendo! Guarda! Vanessa e papà! Guarda quella fianca c'è pure! Eh? Con la fianca c'è dormo! Ha ragione, adesso dormo anch'io! No, io gioco! Guarda! Guarda io! Dai! Dai la manina che stiamo per decollare! Mi dai la manina! Mi dai la manina! Mi dai la manina! Oh! Dai! Dammi la manina! Siediti forte! Siediti forte! Giovanni! Ma è che si stacca? Adesso si stacca! Vedi che si sta staccando? Guardalo su! Vedi? Da terra! Siamo decollati! Anzi, stiamo decollando proprio adesso! Tenetevi fortissime! Oh mio! Mamma mia che vuoto! Stacca! Cosa mangi? Le Pringles? Tu? Anche? Buone! Sono buone? Ti piacciono? E tu quelle normali! E noi la paprika! Dai che tra poco siamo arrivati! No! Io voglio andare a mangiare! Stiamo atterrando! Tra pochi minuti sentirai le rotelline dell'aereo sulla terra! Guarda! Si vede terra ma qua non si vede! Mamma mia qua di lato! Che scema! Tu tienimi la mano! No! Sono fuori! Non si vede fuori da qua! Spero! Senti, senti amore! Guarda, guarda, guarda! Anni! Wow! Guarda! Tranquilla! Ragazze, siamo arrivati in Sardegna e? E piove! Bene, dai! Finalmente a casa nostra! Sì! Adesso io devo pulire perché c'è un po' di disastro oltre all'erba altissima! Sì, amore, ma è diventata una giungla la casa! Adesso domani arriva il giardiniere! Guardate! Wow! Sì, le farfalle! Adesso non si capisce molto perché veramente l'erba è altissima ma ci sta dopo un anno! Siamo nella giungla! Siamo nella giungla! Poi oggi metteremo tutto in ordine anche il dono! Certo! Adesso ragazzi salutiamo i nostri cucciolini perché noi si regalano i nostri cucciolini! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie.